E questa cos'è? Una macchina espresso, la compra te il signor Nino E come si usa? Boh E adesso chi glielo fa il caffè? Leggiamo le istruzioni Geniale Dice che ci vuole caffè speciale Beh, più speciale dell'avazza, eh Alt! Fermi dove siete Espresso, famiglia Lavazza Espressamente macinato per l'espresso Geniale E' come al bar Gli evo di sempre tutti Ecco fatto Buono, il caffè espresso e il piacere è l'avazza Mh mh